buonasera signori buonasera bull family buonasera a tutti guardate bitcoin finalmente andato a testare la 5 settimanale comunque solita logica ok e ma viagra e ma 5 che comanda candelina questa era bellissimo perché ci dà la candelina di azzeramento non è che vale solo sopra vale sia sopra che sotto è un azzeramento di trend quindi è stato un giorno in cui si è azzerato un giorno di lateralizzazione ok la candelina di azzeramento è quello rotto sopra andava molto probabilmente di nuovo a rompere nuovi massi visto che qua era già un bad fintato rotto i minimi c'era il rischio che andasse a rompere lema 5 che poi per andare a testare la 10 che poi non avrebbe finalmente tenuto e quindi niente è il supporto sotto che cos'era la 5 settimanale di cui tanto tempo che dico che deve andare a testare quindi meglio così comunque c'è ancora un po di spazio vedremo se va a fare ho preso quella candelina bull grande grandissimi brava fra l'altro mi sembra aver visto prima in chat qualcuno che ha fatto lo short che mi dice cosa faccio devo dare devo vendere cosa farà bitcoin adesso con la insomma ci vuole sempre una conformazione infatti chi ha scritto la in chat prima a se te grande bravo 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 esatto l'intelligenza si usa la conformazione se mi seguite in questi anni qua saprete che qualsiasi cosa cade io lavoro io lavoro faccio trading ok quindi qualsiasi co che siamo in all time high all time low che ci sia nulla io qualcosa faccio sempre ma se ci sono le conformazioni se non trovo nessuna conformazione non faccio nulla ma come mai cosa ha fatto questo signore qua ha fatto delle ricerche e non trovo niente cosa ha fatto di passato per dire bull come mai dice che è una persona squallida dico che la persona squallida effettivamente se fai delle ricerche fai molta fatica a trovare le cose evidentemente boh sono troppo vecchie state cancellate non lo so però io ovviamente ve le faccio vedere allora trattasi di questo periodo qua questa è micro strategy che è ancora quotato vedete che qua ha fatto un mega to the moon e poi un mega crollo cos'è successo qua cosa è successo qua è successo che questo personaggio straordinario questo è un personaggio straordinario che io veramente non riesco a capire come facciano a fargli diventare così ricco cioè io davvero io mi aspettavo che lo facessero uscire da bitcoin visto che lo stop ce l'aveva da qualche parte e poi dopo andava a fare gli all time high andava a un milione ma con lui dentro io non ci posso credere io faccio una fatica a credere che bitcoin possa andare a fare gli all time high con lui che ha tutti questi bitcoin mi fa veramente strano e come mai perché è una persona squalidissima cosa ha fatto michael sailor che io chiamo sailor moon proprio perché proprio perché ha fatto questa cosa to the moon e poi è sceso ma come mai è colpa sua è colpa sua ha fatto una schifezza disumana cioè cosa ha fatto nei risultati del 1999 ha tirato fuori dei risultati che in realtà erano il 25 per cento in meno quindi ha dichiarato il falso e ha anche detto che era in profitto la società quando in realtà era addirittura in perdita cioè la società che aveva lui a lui dichiarava che era in profitto quindi uscire facendo uscire fuori i dati che era in profitto che stava andando benissimo che è la società più tecnologica più evoluta del modo del periodo e invece era tutta una puttanata era tutto era tutto falso e addirittura non solo non era in guadagno era addirittura in perdita la sua società era addirittura in perdita e quindi cosa ha fatto tutti gli investitori che hanno creduto hanno boccato alle sue cagate si sono trovati in mezzo a sta roba qua si sono trovati in mezzo a sta roba qua poi si uno dice sono tanti anni fa è vero uno può ripartire però una persona del genere mi fa strano uno che comunque sia ancora in micro strategy poi è vero l'hanno tolto dal l'hanno tolto un po dalle partecipazioni però è ancora lì però non so mi fa veramente strano mi fa strano poi tutti siamo tutti sbagliamo tutti possiamo rincominciare abbiamo il diritto di sbagliare di rincominciare con questo sono d'accordo ma non lo so se capite anche il discorso di edge found che lavoro fanno cioè l'edge found se vuol fare un guadagno facile si mette d'accordo con degli altri trova un punto debole andate a vedere quello che ha fatto gamestop gli edge found si mette d'accordo vanno a cercare un punto debole che magari ha uno stop e ha delle percentuali enormi per poi andargli contro fargli saltare gli stop e chiudere l'operazione se voi capite bene questo meccanismo capite il perché io mi faccio fatica che bitcoin possa andare a fare gli old time high con ancora michael seller dentro perché è troppo un affare farlo saltare fuori cioè lui ha tutti questi bitcoin ok 3 miliardi ormai sono tipo 4 miliardi in valore di bitcoin 5 miliardi non so quanto sia ha uno stop che tu ti metti d'accordo con altri altri fondi altri hedge found ok balene sono questi metti d'accordo fanno shortazione cosa deve fare deve vendere per vendere chi è nato short può comprare ok quello è quello è il modo più facile che gli edge found guadagnano soldi ok e lo fanno in continuazione vanno a vedere delle partecipazioni grosse cercano di fare di capire con intelligence con dei metodi per andare a indagare capire dove possono avere gli stop dove ce li hanno la quantità eccetera e poi dopo gli fanno saltare game stop insegna ok nasdaq perfettamente andato a testare lema 5 settimana che era quello che volevo che facesse bitcoin quindi adesso bitcoin potrebbe dovrebbe andare a fare questo perché dopo porterebbe a fare i massimi avete visto che poi nasdaq è andato direttamente a fatti fare i massimi e gli old time high sono qua ok invece abbiamo ethereum perfettamente ha toccato lema 5 settimana guardate la perfezione dellema 5 settimanale anche qua era in viagra perfezione e abbiamo bnb contro trend ok qua probabilmente c'è un ico ah inj questo invece è un bel old time high ok questo è un bel old time high nel senso che ci deve ancora arrivare ci deve ancora arrivare non è male ma è ovviamente estremamente dritto per dritto quindi di cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno della conformazione time frame un'ora cosa che in questo momento qua non c'è non c'è però su un dritto per dritto comunque tenere d'occhio il livello avax avax ancora avax ah sì eh sì uh avax ragazzi potentissimo ultimamente ovviamente siamo lontanissimi dagli old time high però caspita bello poi questa conformazione sì comunque una giornata di oggi con bitcoin che sta crollando qua capiamo che siamo contro trend quindi capiamo che è molto potente fra l'altro potrebbe chiudere la candela hammer potrebbe chiudere oggi con una candela hammer se chiudesse così sembra una bellissima candela hammer quindi domani sicuramente questo è da assolvare assolutamente bello anche a time frame un'ora oh questo mi piace anche polls vediamo i polls ho già andato no ancora no è un po brutto questo perché questo ha superato il livello era era bello se questo fosse stato precisamente un terzo tocco comunque da tenere d'occhio magari time frame un'ora c'è qualcosa si dai terzo tocco si dai ce l'abbiamo anche senza considerare il primo qua abbiamo un terzo tocco ah l'ha rotto poi questo livello eh ah dai buono 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 perché comunque dobbiamo fare il terzo tocco dai va bene va bene va bene va bene che non ha fatto troppe follie adesso andato a testare precisamente i supporti si dai un alert lo posso mettere anch'io vediamo già da qua dai prima di 5.2 vediamo che succede 1000 btt vediamo a un'ora c'è qualcosa ah bello si qua qua abbiamo un bel livello perché questo è il livello del cambio colore molto potente e abbiamo già un tocco sul cambio colore quindi sicuramente il livello del cambio colore è potente assolutamente potente per lo short poi qua c'è spazio qua se non sbaglio paga anche un bel po' dai 6% niente male si non è un terzo tocco quindi potrebbe rifintare quando arriva però un bel livello perché poi c'è il cambio colore quindi dai questa ha rotto le balle decisamente ha rotto le balle che poi è da tantissimo che non tocca di nuovo la 60 quindi avrebbe proprio bisogno di un bel tocco sulla 60 trx non lo dai mai sono ancora distanti mensile messo così settimanale guardate che bel settimanale è bello 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 settimanale e abbiamo il terzo tocco si abbiamo addirittura una tracime abbiamo addirittura una tracime e quindi niente abbiamo una tracime bene quindi qua ci sta anche un alert prima di rompere la terza cima che poi ci può portare a fare addirittura i massimi allora algo perfettamente sulla 5 vabbè anche qua mega esteso ho toccato perfettamente la 60 settimanale e perfettamente la 5 settimanale avete capito chi comanda avete capito il time frame che comandano vabbè time frame un'ora cosa c'è qua abbiamo la lateralizzazione a time frame un'ora questo è un bel livello questo molto bel livello per l'uscita dello shimano fra la 5 daily e la 60 a time frame un'ora molto carino molto carino algo ci piace molto ho arrivato un segnale bull bot daily adesso andiamolo a vedere in diretta anche perché fra 30 secondi mi sta per suonare la sveglia attenzione attenzione AMP AMP questo è il livello purtroppo ci sta andando su dritto per dritto ci deve ancora arrivare deve riposare se riposo un attimo questo è il livello trigger ecco la sveglia abbiamo il livello trigger a un 1% ormai deve riposare però è troppo dritto per dritto dovesse riposare niente male io vi debbo salutare che debbo scappare che proprio mi aspetto oh c'è bitcoin che sta andando si sta preparando veramente per andare a toccare mi sa quota 40.000 mi sa che ci vuole andare ma noi tanto lo sapevamo già e 1925 si a breve ma intenso ragazzi ci vediamo prossima settimana mi raccomando mi raccomando venerdì farò no venerdì sabato farò comunque il video di analisi tecniche ho già fatto i 1000 like e niente ci sentiamo questa settimana qua mi raccomando aspettate le conformazioni la bellezza non fatevi prendere da prezzi non prezzi eventualmente potete provare anche qualche pesca su dei livelli lontani sull'EMA 5 settimanale l'EMA 10 settimanale ma che sia lontano cioè dovete sperare che mentre dormite crolli di nuovo ok con uno spike adesso non abbiamo tutto tempo se no andiamo a cercare qualcosa dai ciao ragazzi ci vediamo domani ci vediamo ai prossimi giorni ciao ciao ciao